Ok Nintendari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i buonissimi video ma ora toccate Matteo. Su Nintendo Switch, nuova inizia partita. Ok ci siamo e vi ho fatto fare una prova per farvi vedere quando sentite questo dovrete saltare. La Triforce Hero, bellissima! La Triforce Hero! Zelda Link! E' finito nel mondo Ariule! 2 Le gemme e il cuore E dobbiamo entrare qua La 34 zero Dobbiamo riuscire a passare Ci dovrebbe essere un altro passaggio Dico no? E dobbiamo entrare qua Dico no? Come potete vedere Dico no? 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 Andiamo avanti sempre su Twitch Per cui ricordatevi di seguici Ciao! Seguici anche su Twitch Per continuare a vedere questo gioco Come va a finire E ricordatevi che c'è un video? Oh ma dai è finito il video ci vediamo alla prossima sempre e poi è sempre e mi piace se è un video a seconda c'è un video di video